Asciugamani 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 Al terzo posto, abbiamo la Amazon Basics, set. Stai finendo per essere indipendente dai tuoi genitori e hai anche intenzione di acquistare una collezione completa e di alta qualità di asciugamani che non valutano in modo eccessivo sul tuo portafoglio? Con questo Amazon Basics stabilito avrai tutto questo e non dovrai considerare nient'altro. Rividi la nostra testimonianza e scopri anche cosa ti fornisce. Per una prima residenza e una singola persona, questo set è assolutamente il top. È composto da due asciugamani da bagno di 140 x 70 cm, due per mano di 100 x 50 cm e anche due per il bidet di 30 x 30 cm. Come puoi vedere, non avrai bisogno di nient'altro. Soprattutto se vivi da solo, questo pacchetto include tutto ciò di cui hai bisogno perché avrai costantemente una sostituzione offerta mentre uno è in lavaggio. Al numero 2, abbiamo il set 10 pezzi spugna. Sei stanco di non avere degli asciugamani da bagno da risparmiare soprattutto quando ricevi ospiti? Per questo abbiamo scelto questo bellissimo prodotto Bassetti che ti offre una delle migliori collezioni totali per far sentire i tuoi ospiti come a casa tua. In realtà è un set di 10 pezzi, adatto a un paio di individui e anche dare loro tutto ciò di cui hanno bisogno per il bagno. Questi asciugamani in spugna sono tutti lavorati e sicuramente ti faranno sembrare davvero fantastico. Nel fascio troverai sicuramente quattro tovaglie di 30 x 30 cm, due asciugamani da 30 x 50 cm, altri due un po' più grandi di 50 x 100 cm e infine due asciugamani da bagno di 70 x 140 cm. Infine, il numero 1 nella nostra lista, abbiamo il Amazon Basics, set. Se hai bisogno di trasformare la biancheria da letto del bagno e stai cercando solo il meglio del meglio, hai riguardato la zona giusta. In questa valutazione ti offriamo i migliori asciugamani sul mercato. Si tratta di un set totale, contenente due asciugamani da bagno che determinano 140 x 70 cm ciascuno e anche quattro asciugamani che determinano 50 x 90 cm, ideali per asciugare mani e viso. Se sei una famiglia più grande, compra ancora più pacchetti, quindi per quanto riguarda coprire le esigenze di tutti. Tuttavia non sarà un onere a causa del fatto che dopo aver tentato la qualità di questo prodotto non si intende utilizzare nientaltro. Ogni pezzo di questo set è realizzato in cotone al 100% e scoprirai subito la sua morbidezza e anche speciale su tutti i tipi di pelle. Come sempre, troverete tutti i link dei prodotti che abbiamo discusso in questo video giù nella descrizione qui sotto. Grazie per aver guardato il nostro video, si prega di come condividere questo video, e non dimenticate di iscrivervi al nostro canale per i video futuri. Grazie a tutti!